55 anni di dolci successi in questo momento. Quanto è cambiata la pasticceria dal 61 all'8? Sì, è cambiata tanto la pasticceria, specialmente le torte, le torte adesso sono diventate come, diciamo, per fare una torta ci vuole, diciamo, abbiamo delle ragazze che lavorano a fare queste cose qui, ma è diventata come l'architettura la torta, diciamo. Sono dei monumenti quali. Sono dei monumenti di architettura, sì. Esatto. Mi dica la verità, le spose del 2015 sono molto diverse da queste. Eh sì, signora, altre cose. Altra preparazione, altra iniziativa, tutta una preparazione diversa. La notte si accontentavano di poco, adesso vogliono tutto, vogliono. Ma queste torte meravigliose, già quando mi sono sposata io 30 anni fa, non c'erano? Non c'erano, sì. Adesso? Tutti vogliono questa torte particolare. Poi vengono loro con i disegni, perché si vede che quando in giro delle cose magari anche vanno all'estero, vedono delle cose all'estero così e portano in Italia questi disegni perché si devono sposare. E noi cerchiamo di fare il nostro meglio, di poter realizzare. Ma mette ancora lei le mani in pasta? Sì, ancora. Perché i pasticceri italiani non sono appetiti. Siamo i primi del mondo nel cioccolato. Abbiamo vinto a Parigi con il cioccolato e non siamo scemi, diciamo, contro gli altri. Sono bravi anche loro, però noi stiamo indietro sempre, sai? E Gattullo è una delle eccellenze italiane. Brava. Grazie. Grazie.